Vorrei chiederti un consiglio spassionato. Che ne pensi? Sono molto interessanti. Devo essere sincera, fino a qualche anno fa non avrei valutato. Dove ho ridurre il genere, il tipo di pass, poi... Oh, oh, oh. Ne prenderesti uno? No. Ne prenderei quattro al prezzo di due. La tua storia è una reclama meravigliosa. Tu devi farlo anche oggi, sai? Dai, hai la minuta della scritta per farci qualche vantaggio. Allora potrebbe far farti un tentativo di corruzione, per farci qualche vantaggio.